Bentornati a Roma Incontra Allora, ha iniziato nel 2009 con Vaticano S.P.A. e ha messo in crisi lo I.O.R. Nel 2012 è stata la volta di sua santità che ha stravolto gli equilibri dei poteri vaticani Nel 2015 è uscito con Via Crucis e ci ha raccontato di Papa Bergoglio Adesso è fuori con un altro libro, Chiare Lettere, sempre di Chiare Lettere Che si chiama Peccato originale, conti segreti, verità nascoste, ricatti Il blocco di potere che ostacola la rivoluzione di Francesco E' Gianluigi Nuzzi Buonasera Hai finito di terremontare il Vaticano? Sei peggio di uno scisma Il Vaticano, una parte del Vaticano credo che si terremoti da solo, io racconto dei fatti Si fanno male da soli Eh sì Senti, però l'altra volta, per merito, per colpa, a seconda di come la si guarda E' andato a casa dopo vent'anni di servizio il presidente dello Ior Ora che cosa, chi metti sulla croce o fai scendere la croce? No, il libro non è un libro che vuole mettere sulla croce nessuno Se non quei mercanti che godono di fiducia a Mariposta Che sono in curia e che come la tela di Penelope ostacolano i cambiamenti di Papa Francesco Cioè c'è una mentalità, un blocco di potere che si forma da Paolo VI in poi E che ha sempre coltivato i propri interessi Sono antitetici rispetto non solo al Vangelo Ma ha un'opera di cambiamento che Francesco sta cercando di portare avanti Ma quanto c'è ancora da scoprire di tutto quello che c'è di sotterraneo? Tutto Ancora tutto? Ma io credo che non ci sia mai stato un informe E' un preannuncio di altri libri? No, ma no, ma non c'è mai stata I media hanno sempre avuto una grandissima attenzione verso il Papa L'opera pastorale, giustamente E si è sempre trascurato l'attività finanziaria, economica Cioè noi di come vengono gestite le offerte non abbiamo mai chiesto conto I bilanci fino a poco fa erano segreti, assolutamente Ma non solo dello Iordi, tutti quei satelliti che compongono l'amministrazione del Stato-Città del Vaticano Quanto vale in termini economici Vaticano-SPA? Credo che una quantificazione sia difficile C'è un fatto che mi ha colpito A un certo punto Benedetto XVI, che per me rimane in assoluto un gigante Da un punto di vista intellettuale La sua capacità di visione E lui aveva, Enrico, aveva messo nero su bianco il progetto di uniformare Lo dico a te che sei, voglio dire, che è una radice salda di giornalista economico Di uniformare tutti i criteri contabili di tutti gli enti di Casteri Ma non solo all'interno delle mura, anche fuori Cioè di uniformare tutti i criteri contabili della Chiesa nel mondo Questo avrebbe imposto una trasparenza Avrebbe imposto un taglio di tutti quegli sperperi Perché le nostre offerte, come l'acquedotto in qualche città disgraziata purtroppo del sud Dove magari il 50% dell'acqua finisce fuori dall'acquedotto, non nei rubinetti Perché ci sono tanti sperperi, non necessariamente Non è solo al sud, la media è il 40% a livello nazionale Ecco, vedi, io ero da buon papà napoletano, già mi buttavo la croce addosso Invece, perché ci sono solo sperperi, non solo casi Cioè non c'è solo la corruzione Ma c'è una classe dirigente che viene tenuta molto schiacciata Senti, ma hai aperto, mi pare di aver capito guardando il libro Hai aperto l'archivio dello IOR Cioè hai trovato dei nomi improbabili Almeno uno, Edoardo De Filippo Maria Teresa di Calcutta che aveva un conto lì Insomma, ora Perché uno doveva aprire un conto allo IOR? I motivi sono molto diversi Madre Teresa, penso che, a parte che è un punto di riferimento Credo per tutti, laici, credenti, non credenti Il problema non è che Madre Teresa aveva il conto allo IOR Che questo con le sue suore è assolutamente, secondo me, normale Il problema è chi lo gestiva Ecco, lo gestiva il gruppo di Marcinicus Che una volta allontanato col caso di Marcinicus Non so se ricordate il numero uno del Banco Ambrosiano Dello IOR ai tempi dell'Ambrosiano Caso Calvi Caso Calvi, esattamente I suoi, tutti i suoi collaboratori più stretti Sopravvivono allo stesso Marcinicus E continuano a perorare quel malaffare E gestiscono anche i soldi di Madre Teresa Ecco, questo è un po' un'antinomia Qual è il nome che ti ha stupito di più di quelli che hai trovato lì dentro? Mi ha stupito molto i movimenti per milioni di euro di Monsignor Pasquale Macchi Che non è un nome molto conosciuto Ma è stato il segretario particolare di Paolo VI per 44 anni E allora che il segretario più vicino a Papa Montini Il segretario di Papa Montini avesse una galassia di conti All'epoca c'erano le lire e in dollari E che su questi conti personali transitassero operazione per milioni di euro È una cosa che ti fa capire come il sistema di Paul Casimo e Marcinicus Era molto diverso a quello che vuole una certa pubblicistica Cioè quello lì era un sistema anche criminale Che aveva ramificazioni fino all'appartamento pontificio E per questo poi quando arriva Albino Luciani dura 33 giorni È giusto perché Ma non perché sia stato ucciso Attenzione Non possiamo Io non amo né la dietrologia né le immagini Cioè io potrei adesso dirti Enrico Penso che sicuramente è stato ammazzato Non ci sono elementi Di certo Io lo penso ma non ho elementi Ecco però non li abbiamo È un'ipotesi allora Un'ipotesi che si basa Penso Io credo invece che lui sia stato Che è morto ufficialmente di infarto Io credo che lui sia stato schiacciato Da una situazione drammatica che si è posto di fronte Cioè lui ha capito che venendo da Venezia Con tutto rispetto lo dico Ha trovato un Vaticano dove c'era una piovra tentacolare Ben più ramificata, articolata e soffocante rispetto a quello che uno poteva pensare Nel libro parlo di un incontro tra Marcinicus e l'allora patriarca Luciani Che si conclude con una frase emblematica Cioè Marcinicus manda un po' quel paese Il patriarca Ragazzo lasciami lavorare E gli dice Esatto così Lei si occupi della sua diocesi che io mi occupo del futuro della chiesa Senti ma oltre ai soldi c'è anche del sangue Perché un'altra cosa non spiegata è Emanuele Orlandi Intanto tu pensi sia vivo o che sia morto? Io penso drammaticamente che sia morto Già allora? Io sono molto incazzato sulla storia di Emanuele Orlandi Sono veramente incazzato su questa storia qui Perché? Perché sono incazzato con noi giornalisti Perché abbiamo dato del credito a dei deficienti come a Liacca Che per anni ha detto che quella era viva senza indicare dove fosse Fregandosene bellamente dei familiari Di una mamma, di un fratello, di delle sorelle Che speravano in una verità che non è arrivata E noi gli abbiamo dato credito a un cretino E che mi querelasse a Liacca Quindi sono incavolato con gli inquirenti che hanno indagato nella prima fase dell'inchiesta Che hanno fatto degli errori clamorosi Hanno trovato un'audiocassetta dove si sentiva la voce, i lamenti di una ragazza E hanno confuso questi lamenti con un... Hanno detto che erano tratti da un film pornografico Poi invece i congiunti familiari hanno sentito questi lamenti E hanno detto no, questa è Emanuela E sono incazzato Scusate il verbo Ancora oggi Con chi all'interno dello stato di città del Vaticano Lo racconto nel libro Ha avviato una trattativa inspiegabile Con la procura di Roma Nella persona del allora procuratore capo reggente Giancarlo Capaldo Titolare dell'inchiesta su Emanuele Orlandi Si sono incontrati per trovare una quadra Si sono incontrati in Vaticano Cioè il nostro procuratore capo di Roma Prima di Pignatone c'è stato una vacazio E' andato il procuratore aggiunto più anziano Che era Capaldo Che era il titolare dell'inchiesta Sulla scomparsa di questa ragazza Che aveva riaperto il fascicolo Beh, e hanno fatto una trattativa Incontri Da una parte e dall'altra c'erano degli interessi Ma ti sei fatto l'idea del perché sia successo qualcosa a questa ragazza? Qual è il movente? Io credo che il movente sia un'aggressione sessuale che è finita male Poi è arrivata la banda della Magliana Ha pulito la scena E ha pulito la scena E su, avendo pulito la scena Ha avanzato una serie di ricatti Di estorsioni Di tentativi di condizionamento Poi certo, noi avevamo all'epoca Papa Wojtyla che si affacciava Liberatela, te lo ricordi? Quello lì ha innescato un sistema perverso Dove chiunque voleva avere Come dire Con di notorietà Faceva un passo avanti Certo Senti Lui ha detto al fratello di Emanuele Orlandi Gli ha detto È una situazione troppo complicata Cioè non gli ha detto Non sappiamo nulla E tu dici Vabbè, oh non sanno nulla Però peccato che ci sia un dossier Per dire che è complicata Qualcosa devi sapere Senti però Questa Se quella Se quello che hai detto Dovesse essere stato il movente Mi viene in mente Che tu nel libro Oltre che dei soldi e del sangue Parli anche del sesso Le tre esse Insomma Perché Porti alla luce Delle testimonianze Di Qualcuno Che dice Che nel Qualche seminarista Che insomma All'interno del Vaticano Non nel Nel paesino sperduto Insomma succedevano delle cose Un po' pesanti Giusto? Beh, questa è una storia È una storia drammatica Io non mi sono mai Secondo te è una storia O è Tu hai raccontato Una cosa emblematica Di un sistema Enrico ma questa domanda No, io non ti faccio le domande Perché sono ingenuo E voglio che Sei tu la risposta Vivendo per tua fortuna A Roma più di me Sei già tu la risposta Allora io non ho mai scritto Questo è il mio quarto libro Sulle vicende vaticane Io non ho mai scritto Su ciò che riguarda Il sesso Perché Perché la pedofilia L'omosessualità Non sono argomenti Prego C'è una telefonata per voi Sì Per favore Chiudete sti telefonini Gesù Bambino Mi viene da Mi fate di delle cose che Io conosco questo signore Da vent'anni Non ha mai detto Gesù Bambino Eh perché dico peggio Mi sono tenuto Comunque In buona sostanza Visto l'argomento che affrontiamo Esatto In buona sostanza Non ho mai affrontato Né l'argomento della pedofilia Né l'argomento della Omosessualità C'è tutto ciò che è legato al sesso E chiesa e sesso Perché Mi sono Ho più seguito la traccia dei soldi Però Ho dedicato una parte Due capitoli del libro Ai chirichetti del Papa Perché questa è una storia di abusi Denunciati Che si intreccia al potere Perché accade Non con tutto il rispetto In una parrocchia Della provincia italiana Ma accade all'interno dei Sacri Palazzi Cioè all'interno dei Sacri Palazzi C'è un preseminario Destinato a chi? A quei ragazzini Che fanno l'ultimo anno degli elementari Oggi si chiamava scuola primaria O le scuole medie Scusate Io sono anziano Per modo di dire Insomma Comunque Uso questi termini Anziano No Nel senso che Io ho detto scuole mentale Sapete che c'ho colpa io Se fa giornalista Perché quando Era un ragazzo La colpa minore che tu hai Se tu vogliamo dire C'erano tante C'ho anche questa Comunque In questo preseminario In questo preseminario Poi posso raccontare un aneddoto Della nostra Dipende Adesso Non vorrei Comunque In questo preseminario Frequentato da questi ragazzini Che vanno Dormono Nelle camerate A Palazzo San Carlo Che noi abbiamo conosciuto All'interno del Vaticano Perché all'ultimo piano Abita Bertone Vi ricordate L'attico di Bertone Ecco Ci sta ancora Certo Assolutamente Chi lo muove L'altro corpo Questo palazzo È fatto di due corpi L'altro corpo Ha A terzo o quarto piano Ora non ricordo Comunque Ha il preseminario Cioè le camerate Di questi ragazzini Che vanno lì Vanno a studiare In una scuola Legalmente riconosciuta Durante la giornata Dormono lì E poi La magia qual è E quello che loro Sono i chirichetti Delle funzioni Della basilica Allora Un ragazzino di questi Ha denunciato Di essere stato testimone Di abusi Nella sua camera Ai danni di un altro ragazzino Quindi non era lui L'abusato Ma l'ha visto Esatto Poi Cos'è venuto fuori E' venuto fuori Che la storia Era più grande Nel senso che Il presunto abusato Ha confermato Un altro ragazzino Ha parlato Di altre molestie Che ha ricevuto Un altro testimone Ha confermato Un altro chirichetto Ha parlato Di violenze Subite da un monsignore Cioè Ci sono state È un casino Il problema qual è Che In un paese Normale Quando c'è una notizia Di reato La polizia Carabinieri Cercono di fare Il loro lavoro A volte ci riescono A volte no La magistratura Quante Quante C'è anche droga Chi è che ha detto No ma Non bisogna Signora Chiedo scusa Non bisogna Generalizzare Io Non amo Le generalizzazioni Nel senso Bisogna sempre parlare Soprattutto quando si parla Di un paese Come quello che è Un paese Molto particolare Perché è l'unica Teocrazia al mondo Allora Io non sono di quelli Che Condannano la chiesa Perché sarebbe Buttare via il bambino Con Come si Diceva una volta Con l'acqua sporca Con l'acqua sporca Cioè il problema qual è E che noi abbiamo Un papa Certo che è tanto sporca Però È tanto sporca Quest'acqua Per come Leggendo questo libro Ti viene Ti viene da dire Quanto è sporca Quest'acqua Leggendo questo libro Se poi leggi questo Insieme a tutti gli altri Che hai scritto Evidenzi le criticità Però io credo che Noi abbiamo il dovere Di essere non solo Dei cronisti Ma di guardare anche La storia Certo Allora se noi guardiamo La storia E uniamo Il pontificato di Benedetto XVI Col pontificato di Papa Francesco Vediamo Un'accelerazione Nei cambiamenti Che rispetto ai precedenti Pontificati Paolo VI Vuoi tila Noi abbiamo tutti Amiamo tutti Vuoi tila Ma lui ha affermato Una cambiale in bianco Per liberare la sua Polonia Di strutturare il patto Di strutturare il patto di Varsavia E quant'altro Con i peggiori Cioè lì c'era una banda Che faceva Che puliva i soldi Della mafia Cioè io sono stato A Buenos Aires Ho intervistato Questa signora Che si chiama È la vedova Di Roberto Suarez Gomez Che era chiamato The King of Cocaine Negli anni Ottanta Cioè per farvi capire Lui aveva Terreni in Sud America Dove Per la cocaina Di 240 mila ettari Queste erano le sue proprietà Quando l'hanno arrestato Gli hanno portato Sequestato 56 aeroplani Con i quali lui riforniva La California Tutta l'America del Sud Di cocaina E io ho intervistato La vedova E la vedova mi ha detto Mio marito Aveva un socio E amico in Europa Chi era? Si chiama Roberto Calvi Ah ecco Mi racconti E lei mi ha raccontato Io poi Approfondisco Comunque la storia È che Sei mesi prima di morire Calvi era inseguito Dal marito di questa signora Perché O meglio Scusi Chiedo scusa Calvi inseguiva il marito Di questa signora Perché il cartello Colombiano di Medellin Voleva rientrare Dei soldi Che aveva depositato Sui conti Del cosiddetto Comparto estero Del Banco Ambrosiano Allora Se questo è il passato Tu non cambi Una fabbrica Che produce cannoni Non diventa una serra Di papaveri Profumati Dall'oggi al domani Il problema è che Ogni tanto Secondo me Papa Francesco Lo dico rispettosamente Viene un po' portato Per il naso Ecco Ecco Perché qui volevo arrivare Io Sul Bergoglio Ho delle mie idee Diciamo così Di tipo politico Lo vedo come un peronista Populista Ma insomma Questi sono fatti miei L'impressione è che però Quella che tu chiami La sua rivoluzione Si scontri Con delle ambizioni Che non si traducono Nella capacità Poi di intervenire Fa scelte Che sono Spesso Dal punto di vista Degli uomini O delle donne Anche Non particolarmente Intelligenti Cambia continuamente Vedi È un continuo Vai e vieni Di gente Che sembra Trampa La casa bianca Cioè Che cambia Dirigenti Ogni due per tre Cioè Ho l'impressione Che sia un vorrema Non riesco Insomma O no Non è così semplice Nel senso Adesso abbiamo Estremizzato No no Ma io cerco di Abbiamo Per il tempo che rimane Di dare una risposta Sintetica Noi Applichiamo I ragionamenti Che facciamo Per il nostro paese Per la nostra classe politica Anche al Vaticano Allo Stato cittadino Il Vaticano Quella è una monarchia assoluta E non ha le stesse Dinamiche Che abbiamo Noi in Italia Però se il monarca Vuole cambiare No Se il monarca Ecco Questo è un luogo comune Non è che se il Papa Vuole una cosa Lo so che Sembra un'eresia dirlo Non è che se il Papa Vuole una cosa Questa viene Applicata All'istante Cioè quello è un paese Dove il Papa Prende un foglio Lo firma Quel foglio lì Diventa legge Subito Il problema qual è È l'attuazione Vabbè lo mandiamo Un attimo da Kim Che così impara Come si fa Io spero che Io spero che Kim Voglio dire Faccia parte presto Del passato Passato remoto Del nostro pianeta È una battuta Senti Non abbiamo più tempo Però io ho bisogno Di chiederti due cose La prima È se pensi Visto che con il libro Precedente Sei stato Processato Poi prosciolto Viva Dio Ma processato Se pensi di rischiare qualcosa Anche con questo Ci sono Sentori di problemi Anche con questo Spero che questa volta Naturalmente processato È stato nel Vaticano Non nel In Italia Sì Volevano Attentato Agli organi Alla sicurezza nazionale Questo era il nostro Reato Che poi è caduto Subito In primo grado Io spero che Questa volta Abbiano l'accortezza Di non prenderselo Non prenderselo Con lo specchio Ma con l'immagine Che lo specchio riflette Cioè io faccio il cronista Non è che faccio Mi invento le cose Ma qualcuno ha tentato Di fermarti o no Visto che è un po' di tempo Che ormai ti occupi Di questi tempi Ti sono arrivati Dei messaggi così Lascia perdere No Cusinghe o minacce Che fossero Ma no Ma non Penso di essere abbastanza Tu sei scafato No ma non scafato Che io sono Quello che voi vedete Quindi se uno Mi sente parlare una volta Sa che è inutile Andare lì e dire Lascia perdere Quindi non perdo neanche il tempo Ho capito Speriamo Poi io faccio Attenzione Io poi non sono Io faccio solo il mio lavoro Cioè Fammela dire questa cosa Ci sono dei giornalisti Presunti tali Non voglio fare dei Neomedi cognomi Intanto li farei tu Appena ti dico chi Che Quando scrivono magari Di chi mi ha stato organizzato Di qualcosa Hanno un modo di porsi Rispetto alla gente Da Missionari Eroi Mi sacrifico Sono in prima fila Guardate che a me Non l'ha prescritto nessuno Cioè io faccio Il mio lavoro Cerco di farlo onestamente Spero che vi piaccia Non sono anticlericale Punto Ma non sono un eroe Perché se noi abbiamo bisogno Di Nuzzi come eroe In questo paese Siamo messi veramente male Che facessimo tutti Il nostro lavoro E basta Ecco questo Bravo Gianluigi Nuzzi Devo aver investito bene A suo tempo Su di lui Ah l'ho detto l'aneddoto Dai di l'aneddoto Su di l'aneddoto Allora l'aneddoto Proprio Allora lui è il direttore Di Gente Money Un mensile dove io Ero una sorta di abusivo Che lui trattava A fare neanche le fotocopie Perché se non c'era la macchina Hai cominciato già male Dai vai avanti su Allora cosa è successo Un giorno Un giorno Abbiamo sporato il tempo Io ero Ho fatto Questo ho fatto Un piccolo reato Lo devo ammettere Ero con l'auto Di mia mamma Senza patente E allora Ero un po' scappestrato Allora scegliamo Scegliamo in ascensore Lui aveva all'epoca Una macchina Che lui non aveva Nessun tipo di passione Per l'auto Se non per spostarsi C'erano dentro Vecchie scatole Cioè sembrava un'auto Di quelli Che al paese Vanno a vendere i polli Avete capito Guarda che abbiamo Sforato il tempo Va bene lo stesso Allora scegliamo in ascensore Lui sapeva che non aveva La patente Ha detto Vuoi un passaggio? Eravamo in fondo Via Le Sarca Alla periferia di Milano Io ho detto No no grazie direttore Preferisco prendere l'autobus Lui mi ha guardato Come se fossi deficiente Ti do un passaggio in macchina Eri deficiente In realtà io avevo parcheggiato La macchina di mia mamma Fuori Nel parcheggio davanti La sai questa storia? No non me la ricordo Lui rimuove Passata in prescrizione Esatto Allora io esco Però avevo paura Che lui uscendo dal garage Mi vedesse con l'auto Di mia mamma E facevo una figuraccia Lui era il mio direttore E vedi Il diavolo fa le pentole Ma non il coperchio Contro il muretto E quindi ho fatto dei danni Che quei quattro articoli Che facevo Le ho dovuti pagare Vabbè Continuo a pensare Nonostante tutto Di aver fatto bene A tirarlo su Grazie Grazie a Gianluigi Nuzzi Buona serata Grazie State con noi Diamo una mano al picco La pubblicità Tra poco per l'ultima parte Giochi di una volta Un'originale idea regalo Un viaggio nel tempo Per incontrare un passato Che diventa un patrimonio Indimenticabile Il recupero Dei giochi tradizionali Rappresenta Per alcuni Il ricordo E per altri La riscoperta Della propria storia Scalon Fionda Porcola Sercion Sono solo alcuni Dei numerosi passatempi Raccolti nel DVD Giochi di una volta Caratterizzato Da un insieme Di testimonianze Da consegnare Alle generazioni future E da spiegazioni pratiche Per provare A portare i giochi passati Nel nostro presente Il DVD Giochi di una volta Lo puoi acquistare Al prezzo di 12 euro Acquista subito Su Amazon O presso la nostra redazione In Viale Milano 31 Per altre informazioni Vai sul sito VicenzaPiu.com O telefona Allo 0444 142 9915 C'era una volta Il giornale Poi è arrivato Il web C'era una volta La tv Poi è arrivato Lo streaming C'era una volta VicenzaPiu Ora c'è VicenzaPiu Freedom Club E carta Web e TV Vivono insieme Per una comunità Con VicenzaPiu Freedom Club L'editore Sei anche tu News Approfondimenti Libri Ebook DVD Corsi E socialità Entra in VicenzaPiu Freedom Club Come amico Partner O sostenitore A partire da 9 euro A trimestre Aiuti il giornalismo A mollare i padroni E il padrone delle notizie Sei tu Sempre di più Con VicenzaPiu Freedom Club Quello che dovevi sapere Sulla Banca Popolare di Vicenza VicenzaPiu Lo ha scritto Da sempre Acquista subito Il libro Vicenza La città sbancata Su Amazon Nelle migliori Librerie ed edicole O presso la nostra Redazione in Viale Milano 31 A soli 12 euro La seconda edizione Arricchita di consigli Su come recuperare Soldi e tranquillità Disponibile anche Come ebook Per altre informazioni Vai sul sito VicenzaPiu.com O telefono allo 0444 142 9915 Con VicenzaPiu Nessuno ti sbanca più Se leggi Vicenza La città sbancata Roi La fondazione De Morita Il marchese Giuseppe Roi La volle per il Chiericati Zonin Ci ha comprato azioni Della popolare L'ex cinema corso L'autore di Vicenza La città sbancata Firma ora Roi La fondazione Demolita L'ebook A 3 euro E il libro A 12 euro Li trovi su Shop.vicenzaPiu.com E Amazon In libreria Nelle migliori edicole E presso la nostra Redazione di Viale Milano 31 Roi La fondazione Demolita La cupola Se la conosci La demolisci Roo L'ebook Ma